capita a tutti di dover tradurre sul telefono un sms un commento di youtube o il post di un amico ma per tradurre ci vuole tempo bisogna copiare cambiare app incollare tradurre tornare all'app di prima e inviare e così via per ogni singolo messaggio allora c'è venuta un'idea se si potesse avere traduttore in ogni app così potresti tradurre direttamente da lì tocca per tradurre lo chiamiamo così una funzione nella nuova app google traduttore ecco come funziona supponiamo che tu stia chattando su whatsapp i tuoi amici parlano tutti inglese ma tu no copi il testo come fai solitamente e la traduzione appare lì puoi persino sentire la pronuncia happy birthday per fare bella figura rispondi in inglese dici di grazie copy e invii ecco qua tutto senza cambiare app e ovviamente funziona in tutte le app ogni volta che hai bisogno di tradurre qualcosa se non sei connesso funziona anche offline tocca per tradurre scaricala con la nuova google traduttore per telefoni android guardate Grazie a tutti.